Amici 23 di Maria De Filippi si è concluso con una vittoria a tratti inaspettata ma che ha reso giustizia la linea che dovrebbe sempre mantenere un format del genere, cioè premiare un giovane talento partito da zero e che ha vissuto un evidente percorso di maturazione umana ed artistica Sara Toscano si gusta la vittoria e senza il flirt con Holden che tutti speravano Intanto lui e Giulia Stabile sarebbero amici speciali.Se buona parte degli utenti social indagavano, da mesi, su una presunta storia sentimentale tra Holden e Sara Toscano, oggi spunta un'indiscrezione che distruggerebbe tutta la teoria per mettere luce su un'altra simpatia che sembrerebbe speciale Sarebbe nato un qualcosa con Giulia Stabile durante Amici 23 Reduci dalla finale della ventitreesima edizione del talent show targato Maria De Filippi, il figlio del chitarrista Paolo Carta, a sua volta marito di Laura Pausini, si sta riabituando alla vita di tutti i giorni dopo il lancio del suo EP All'interno e fuori dal programma molti l'hanno elogiato come attaccato, c'è chi gli ha dato anche del raccomandato, sopravvalutato e molto altro, ma lui va dritto per la sua strada Un percorso che gli ha permesso di crescere artisticamente. Gli ha fatto guadagnare tante nuove amicizie E con Giulia Stabile? Ci siamo conosciuti dentro la cassetta di Amici 23, essendo una professionista avevamo poco tempo per conoscerci e per parlare, ha sorpreso così tutti Holden nell'ultima video intervista, concessa a Fanpage Però, da quando è finito il programma, ci siamo visti comunque spesso, ora siamo molto amici Abbiamo stretto in pochissimo tempo e sono molto contento di questa cosa, ha aggiunto il cantante e producer S.U.X. Molti si sono esaltati, sarebbero carini insieme, ci devono dire qualcosa? Due anime belle, il suo sguardo dice tutto, si merita un'amica come lei, solo amici e, sicuri? Commentano diversi utenti